Un saluto da dottor Palmas, ti parlo oggi degli impianti basali che permettono di rimettere i denti fissi senza osso anche a tutti quei pazienti a cui hanno detto che non si poteva più fare nulla per rimettere i denti fissi sia nella mascella superiore che quella inferiore. Seguimi perché ti do molti consigli su come evitare di incappare in chirurgie che possono essere più o meno deludenti. Quelli che vedi qua sono dei modelli che ti mostrano come vengono realizzati gli impianti per mascelle completamente atrofiche che permettono di rimettere i denti fissi anche in quelle condizioni di completa assenza di osso. Qua vedi prima di tutto un dettaglio ovvero questi impianti vengono avvitati sulla corticale ossea residua sarebbe la parte esterna dell'osso riassorbito e vengono avvitati per mezzo di viti da osteosintesi che sono da decenni utilizzate nei dipartimenti di chirurgia maxillofaciale. Fai attenzione perché esistono anche delle tecniche di posizionamento di denti fissi su impianti in questo caso si chiamano sottoperiostei o yuksta ossei che non hanno, non prevedono queste viti ma vanno a incastro sull'osso. Come ti ho già detto anche su altri video fai attenzione perché quelle tecniche non garantiscono poi un risultato sul lungo termine. E' importante che questi impianti vengano fissati su delle zone specifiche parliamo della zona laterale alla cavità nasale, sulla zona dello zigomo e in più nella parte interna vengono anche fissate sulla volta palatina. Queste viti ci permettono di ottenere quella che è la stabilità primaria dell'impianto appena inserito è importantissimo sottoporsi a degli interventi che prevedano l'utilizzo di queste viti maxillofacciali. Altra cosa importante dove vorrei mettere focus, fai attenzione, è il tipo di protesi che viene utilizzata. Fai attenzione perché non tutti quelli che fanno questo genere di intervento poi ti proporranno di mettere dei denti definitivi. Questa è una semplice protesi provvisoria in PMMA che poi dopo sei mesi, un anno, va cambiata con delle protesi definitive. Qua vedi un esempio di protesi definitiva in zirconio. Questa è una protesi che ha i denti, come ti dicevo, fatti con lo zirconio. Lo zirconio è un materiale rigido, simile al vetro, che viene bloccato sopra una barra di titanio che viene avvitata agli impianti. Sia che siano essi impianti convenzionali oppure impianti sottoperiostali o yukstaosi, ricordati che la protesi deve essere svitabile. Fai attenzione, prima cosa, se vedi in giro, in circolazione, impianti con invece che le zone di avvitamento degli spuntoni che escono così dalla gengiva, quelli sono degli impianti che monteranno sopra una protesi incollata, cementata. E questo è rischioso perché le gengive che coprono questo impianto avranno attorno una protesi incollata col cemento che poi si scioglie nel tempo e lascerà lo spazio alla saliva con i batteri. Quello causerà una infiammazione cronica iniziale della gengiva che poi, se non risolta, esiterà nel riassorbimento completo della gengiva attorno all'impianto. Invece, l'impianto sottoperiostale deve avere i multi unit, ovvero queste zone dove viene svitata o avvitata la protesi. Vediamo se riesco a zoomare. Ti faccio vedere come devono essere questi multi unit e vedi che sono delle zone dove si va a avvitare la protesi. Se invece vedi questi spuntoni, quelle sono delle protesi che causeranno dei problemi. Quindi fai molta attenzione quando ti orienti a questo tipo di chirurgia, evita impianti che prevedano poi sopra la protesi incollata. Questo per più motivi e ti spiego quali sono i motivi pratici. Il primo è che quando noi andiamo a mettere la protesi incollata, cementata, sopra a questi spuntoni, la protesi inevitabilmente dovrà avere il diametro di dove sono stati messi questi spuntoni qua. E purtroppo non sempre coincide le zone di questi spuntoni con le zone dove dovrebbero essere gli impianti. Quindi significa che questo ferro di cavallo, questi denti che vanno incollati sopra a questi spuntoni, c'è il rischio che siano più piccoli in realtà come ampiezza rispetto all'ampiezza che dovrebbero avere nel sorriso questi denti. Quando invece noi andiamo a avvitare le protesi invece che incollarle, cementarle, vedi che i fori possono anche essere più interni, ok? E i fori dipendono praticamente da dove è rimasto l'osso, perché i multi unit vengono posizionati sulla cresta ossea. Quindi se si è riassorbita la cresta ossea è ovvio che i multi unit saranno più verso l'interno del palato, ma non è detto che i denti debbano essere dentro l'interno del palato, anzi è vero il contrario, i denti spesso si ritrovano più esterni rispetto alle zone dei multi unit. Per questo è importante avere questi snodi di avvitamento, di modo che possiamo mettere i denti esattamente dove dovrebbero andare e i multi unit dove è arrivata la cresta ossea. Quindi per ricapitolare, è importante che le protesi che montano sopra gli impianti basali abbiano i multi unit per poter avvitare la protesi. Oltre questo evitiamo di avere colle e cementi tra la protesi e l'impianto dentale e quindi evitiamo di avere delle zone dove si possa sciogliere il cemento e si creino poi delle infiammazioni gengivali. Il paziente che ha perduto molto osso è un paziente particolare che non ha più praticamente tutta una grande quota di osso, vedi quella che è la situazione reale, e c'è il rischio che si creino dei ginocchi dove si va a depositare il cibo. Per questo è importante poter svitare la protesi per fare la corretta manutenzione. Oltre questo, gli impianti sottoperiostali spesso li andiamo ad accoppiare con quelli che si chiamano impianti ptericoidei. Gli impianti ptericoidei sono questi impianti che vengono posizionati nella zona posteriore e fungono da ancora per dare ancora più stabilità a questi impianti speciali, impianti che vengono disegnati con il computer, prodotti con delle stampanti di metallo e per evitare che ci sia tutto il carico che vada distribuito solo su questo impianto allora andiamo spesso, se c'è la tipologia di osso che ce lo consente, a inserire degli impianti speciali ptericoidei. Quello che vedi qua è una protesi, per esempio, tutta in zirconio. Fai attenzione perché queste sono protesi molto costose nel tuo paese e andare a creare i denti in zirconio sopra queste protesi ha un costo. Evita di spendere tutti i soldi per la chirurgia e di non avere poi più soldi per la protesi perché se no c'è il rischio che hai fatto una bella chirurgia ma rimani a vita poi con in bocca le protesi di PMMA. Ok, questo è un materiale più morbido, elastico, ma sicuramente non è un materiale poi definitivo. Queste sono protesi provvisorie che dopo sei mesi, un anno vanno sostituite. L'ideale, ripeto, è avere delle protesi superiori in composito oppure in zirconio che abbiano una struttura interna in titanio, la gengiva rivestita, ricostruita con il composito. Ti ricordo che chi deve fare questo tipo di chirurgia avrà sempre necessità della gengiva proprio perché ha perduto tantissimo osso. Se noi non andassimo a simulare questa gengiva ci ritroveremmo che il paziente sorride e non si vedono i denti. Ricordati quindi che questi tipi di impianti devono essere avvitati sull'osso e devono quindi essere fissati i denti anch'essi con delle viti sopra gli impianti. Fai attenzione a chi non ti mette nei preventivi o non ti parla proprio di denti definitivi. Ricordati che molti spacciano il carico immediato come la soluzione a tutti i problemi. In realtà carico immediato significa solo mettere lo stesso giorno e l'intervento dei denti provvisori ma che vanno sostituiti. Molti non ti mettono nel preventivo i denti definitivi, neanche te ne parlano dei denti definitivi perché se no la spesa poi è troppo alta. Il paziente alla fine scappa. Non è vietato non mettere i denti definitivi nel preventivo ma io la ritengo una cosa non corretta nel senso che bisogna sempre parlare al paziente e spiegare che quelli sono denti provvisori che poi vanno sostituiti con delle protesi definitive. Ok questa che vedi qua a sinistra è una protesi provvisoria questa che vedi qua a destra invece è una protesi definitiva in questo caso in zirconio oppure quest'altra anche questa è una protesi in zirconio con la gengiva iperrealistica e che è avvitata sopra all'impianto sottoperiostale. Ricordati che i fori non coincidono mai con la posizione dei denti i denti vanno messi dove vanno messi e i multi unit vanno invece posizionati dove è rimasta la cresta ossea. Ok questo è importante perché poi i multi unit vengono posizionati dentro alla cresta ossea proprio per evitare che poi la gengiva si ritiri. Spero che questo video ti abbia chiarito un po' le idee. Questi erano dettagli che ritengo essere molto importanti per pazienti che devono fare delle chirurgie maxilofaciali abbastanza complesse. Parliamo di stadi terminali dove il paziente ha dovuto togliere tutti gli impianti che sono falliti pazienti che hanno dovuto portare la protesi mobile per tanti anni l'osso non c'è più e neanche la dentiera sta più in bocca neanche con la colla allora in questi casi sappi che c'è una possibilità e l'implantologia basale con impianti basali sottoperiostali o alcuni li chiamano iuksta ossi sono un'ottima soluzione per risolvere casi gravi dove ormai l'ultima chance è questa e allora dobbiamo andare a informare molto bene i pazienti su quelle che sono le tecniche oggi a disposizione quali sono i pro e i contro. fai attenzione a chi incolla i denti sopra questo genere di protesi perché la chirurgia sarà pure eseguita bene ma poi dopo qualche anno inizia a sviluppare infiammazioni attorno alla protesi sulle gengive con il rischio di perdere l'impianto fai attenzione anche a chi non ti parla delle protesi definitive che siano protesi concettualmente di un certo tipo con strutture in titanio, con denti magari in zirconio, composito che diano poi una durata nel tempo alla dentatura stessa che dovrà poi lavorare negli anni e masticare il cibo. Un saluto da Dottor Palmas Grazie 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 Grazie